Economia della bellezza e sostenibilità del turismo al centro del programma di Liberi e Uguali che comprende MDP, Sinistra Italiana, è possibile e da Impietro Grasso il liter. La coordinatrice della campagna elettorale, Rossella Muroni, ex presidente di Lega Ambiente, ha fatto tappa a Firenze proprio per sottolineare le linee guida del partito in vista delle elezioni politiche. Pensiamo fortemente che questo paese debba riconoscere e scoprire quali sono le proprie potenzialità. Il turismo è un'asse fondamentale sia da un punto di vista della tutela e della conservazione della nostra identità, del sistema paese, ma anche può essere un modo per rinforzare l'identità delle comunità locali e per dargli un'occasione di sviluppo economico e di economia. Tenere insieme la tutela della bellezza e lo sviluppo di un'economia pulita, sana, che guarda al futuro, è una delle grandi sfide. Noi dobbiamo creare nuovo lavoro, tutelare naturalmente quello già esistente, ma guardate la grande sfida è nei prossimi 5, 10, 15 anni capire che cosa far fare ai nostri giovani e sicuramente l'economia della bellezza e la tutela dei beni culturali per l'Italia devono diventare assolutamente uno degli assi di sviluppo possibile.